Europee cominciano a formarsi i primi schieramenti nel Veneto. Domani la Confartigianato della Regione, che conta su 200.000 soci, rivelerà i dati di un sondaggio sul mondo dell'artigianato. E intanto si conoscono i primi risultati dell'indagine realizzata dalla società Demos sull'elettorato Veneto su incarico del Gazzettino. E il partito degli indecisi fa sempre paura. Costituisce bene il 22% degli aventi diritto al voto, ossia ben un quarto degli elettori. C'è inoltre un'altra fetta di Veneti che influirà sulle elezioni astenendosi e sono il 13%. Rimane il 65% dei votanti da analizzare e tra questi, secondo la società di sondaggi, la metà sceglierà il PD, ossia il 34% del totale. Un dato eclatante per una regione come quella veneta, tradizionalmente di centrodestra, sorprende soprattutto perché il PD gode del favore dei Veneti al punto da distaccare di ben 12 punti l'avversario più vicino, ossia i grillini. Forza Italia poi è ai minimi storici, ossia il 16% e il carroccio al 12%. Tutti gli altri sono vicini alla soglia di sbarramento. Va chiarito che si tratta di un'intenzione di voto espressa oggi e che potrebbe cambiare decisamente nei prossimi giorni, secondo quanto uscirà dal cilindro dei leaders politici.